Allora, dunque, per questa edizione dei Fantini a cavallo, ovviamente c'è sempre il nostro partner Suzuki Sarkar, che ci accompagna nei vari punti nevralgici dove andiamo a trovare i nostri assassini, chiamiamoli così perché sono ancora nell'immaginario collettivo dei senesi dieci assassini, e sono insieme a Rachele Franchi. Dunque, Rachele, parliamo un attimino della macchina e parliamo anche, insomma, della vostra passione, perché la famiglia Franchi, oltre ad avere Suzuki Sarkar, la famiglia Franchi è molto collegata al mondo dei cavalli, quindi parlaci un po' e faccio una breve introduzione. Allora, oggi siamo venuti con la Suzuki Sways, che è una familiare molto comoda, spaziosa, e soprattutto con tecnologia all'avanguardia, infatti è una full hybrid, e di conseguenza i consumi si possono paragonare a quelli di un'utilitaria, quindi sono molto bassi, e questo anche perché Suzuki e noi stiamo molto attenti all'ambiente, infatti ha emissioni molto basse. E per i cavalli, sì, anche noi siamo molto legati ai cavalli, infatti però noi sul salto ostacoli, noi facciamo salto ostacoli. E questo. Quindi questo è, si è creato questo connubio, quant'è che ormai va avanti l'attività a livello ovviamente della Suzuki Sarkar? Io sono la quinta generazione, quindi diciamo che il Sarkar è una tradizione dell'auto a Siena da sempre, e il nostro obiettivo ovviamente è avere trasparenza con i nostri clienti, e siamo sempre a disposizione per chiunque abbia una domanda, una curiosità o comunque un bisogno. Ecco, allora auguriamo veramente di poter proseguire in questo percorso, noi ringraziamo la Suzuki che ci ha fornito ovviamente la macchina per poter andare a giro con i nostri fantini, ringraziamo Rachele in persona che è stata qui con noi, e speriamo allora che possa proseguire degnamente questa avventura. Io ringrazio voi per averci dato anche l'opportunità di accompagnarvi in questa esperienza bellissima, anche a conoscere tutti i vari fantini, e grazie. Grazie a voi, grazie a Suzuki Sarkar, proseguiamo il nostro cammino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una nuova puntata di Fantini a cavallo, però il Fantini che ora vi presento, che lo vedremo già inquadrato, non sarà a cavallo, perché è squalificato, il che significa a luglio, lui guarda il palio della televisione. però, siccome noi vogliamo bene a Giosuè Carboni, che è un ragazzo veramente carino, divertente, che ha già corso sette carriere, siamo venuti a trovarlo, nonostante la sua squalifica per il palio di luglio. Allora, Giosuè Carboni, detto Carburo, sette volte in piazza, Tarduca, Tarduca, Pantera, Lupe, Civetta, Torre, Civetta, Montone, ancora la vittoria non è arrivata, perché non è arrivata la vittoria? Perché... Ha perso il treno. Forse l'ho perso, forse deve arrivare, lo cerchiamo e lo prendiamo. Lo cerchiamo. Bene, ora vediamo cavallo e poi facciamo l'intervista. Allora, partiamo da due cavalli importanti che Giosuè ha la sua scudoria, questa è Schietta, cavalla... Quante volte è stata in piazza, Giosuè? È stata in piazza... Dunque, la prima volta, al debutto è stata nel Montone, poi è stata nella Luppa, e poi... Aspetta... Nel Bruco? Ah, è pure nel Bruco. Basta, mi sa. L'Istri ce l'hanno scorso e poi non ha... Allora, è veramente una bella cavalla. Sì, è una cavalla che ci può stare in tutti i lotti o in alto e in basso e niente. Poi la sua figura l'ha fatta. Anni? Anni, ecco la S. Ha 11 anni. 11 anni. 11 anni, se non sbaglio. La porti alla previsita? Sì, sì, sì. L'ho scritta, la porto, poi... Ha fatto tutto il percorso? Ha fatto tutto il percorso, l'ha finito, poi lei... Vediamo se la prendono, se non la prendono bene. La prendono, siamo contenti, se non la prendono, ci riporta a casa e ci riprova a luglio. Ah, no, ho sbagliato, scusate. Condizioni splendide, un manto meraviglioso, lucidissimo, carica. E niente. Bene, cavallo, veramente da palio, questa schietta. ora, vediamo l'altro trombone, che... Adesso si guarda con l'altro. Ha dei cavalli di grande livello. Sì, cavalli hanno fatto sempre la sua porta figura. Questo è tale e quale, cavallo che ha già... Questa è tale e quale. Un attivo, una vittoria, una giraffa con Azzeni, con Tittia. Questi quanti anni ha ora? Lui ne ha... nove. Nove. Nove o dieci. Nove, nove mi sono. Sì, adesso è un bel tassello, bello, eh? Eh, lui... Il fisico è giusto per lì dentro. Anche lui, tenuto da Dio, inquadra più bene, eh? Fallo vedere, guardate quanto è bello questo cavallo. Questo è un treno. Montato com'è, Gesù? È un cavallo... Impegnativo? No, non è impegnativo. È un cavallo che... Se ce ne ha un dieci, c'è tanta roba. È bello. È un cavallo da corsa, diciamo. Ma quali sono i sentori il radiopalio su... Quelle saranno le scelte alte, medio-alte, tutti, non tutti, sì, no. Sai, i sentori ora sono... Non si capisce bene. A volte li vogliono tutti, a volte non li vogliono, a momenti li vogliono, a momenti non li vogliono, a momenti ne vogliono solo uno. Boh, vediamo. Noi si cavallo si portano in ordine e tutto. Poi le chiacchere, sai, le portano via il vento. Ma questo è bello davvero, eh? Capito? Bello, bel cavallo. Tale e quale. Anche il nome significativo. Allora... Ora stoppiamo e andiamo a fare l'intervista a Giuseppe Carboni, detto Carburo, anzi, ora vediamo Giuseppe Carboni, detto Carburo, a cavallo. Che cavallo monterai? Per farci vedere... Montiamo un cavallo nuovo, cioè nuovo, si chiama Diogleziano, che è venuto quest'anno, da una scuderia, si è comprato in Sardegna, un cavallo ha fatto anche il risultato in Sardegna, ha vinto qualche corsa, poi si è provato qui in provincia. E com'è andato? È andato bene, ha fatto solo una corsa in provincia, l'abbiamo portato a Fuccecchio, giusto per fare un'esperienza così, è andato bene. E' un cavallo da scoprire? Sì, è un cavallo da scoprire, perché il fisico, le caratteristiche ce le ha, però è tutto da scoprire, giustamente a quattro anni, lo vedremo... Deve crescere. Deve crescere, dobbiamo andare a gradi, lo vedremo alle prove di notte, poi farà tutte le prove di notte, se Dio vuole, giustamente se passa la previsita, e poi lo rivediamo il prossimo anno, impegnato. Allora, Giuseppe Carboni, Fantini a cavallo, Monterà a cavallo, questo Dio Cleziano, e poi facciamo la nostra intervista. Vai a Monterà a cavallo. Vai. Allora, Giuseppe Carboni, l'abbiamo visto ora a cavallo, un cavallo nuovo che ha un quattro anni, per cui vedremo nel proseguo cosa farà questo soggetto. Detto Carburo, sette carriere, zero vittorie, nata a Nuoro il 23 dicembre 1980. Carburo o Carbonella? Sempre la solita domanda. A me piace, perché io ti avevo detto Carbonella e poi sei andato nella Tartuca e mi avevo detto Carburo. Ma dai, è bello Carburo, no? Ti piace? Ti garba, ti garba, ti garba, perfetto. Allora, debuti il 2 luglio del 2011 nella Tartuca con Ivanov, è l'ultima carriera il 17 agosto del 2022 nel Montone con solo tu e due. Poi vedremo una carriera che sceglierai. Sei squalificato. Che ha fatto? Che ho fatto? Non so neanche io che ho fatto bene. Fressa poco. Perché diciamo che è una cosa non te lo so neanche a spiegare. Per favore, silenzio, c'è il popolo qui che ci sta osservando che fanno un bordello. Mario, per favore, zittati. Vai. Che ho fatto? Niente ho fatto. Ho fatto, è stato, ho dovuto fare una prova nella civetta con un Van Gogh che risulta un cavallo di scuderia e niente. A me mi avevano detto di fare un giro un po' elevato per provare il cavallo perché il cavallo per la prova prima era cascato e si era un po' sbucciato e basta. Non c'era niente. Allora la commissione veterinaria avevano detto di fare un giro o chi aveva detto per provare per provare il cavallo. E niente, io ho fatto un giro poi giustamente i cavalli sono cavalli. Il cavallo invece di farne un giro ne ho fatto due e mi hanno accusato di questa prova che ho fatto due giri o troppo quello che dovevo fare. Allora mi hanno accusato e mi hanno dato una munizione. Una munizione ce l'avevo già e allora mi hanno dato un palio. È una cosa non so neanche se dire se è ingiusta o giusta non lo so. Mi sembra un po' una cosa eccessiva perché la munizione che avevi precedentemente era derivata da cosa? È stata derivata nel palio che avevo fatto ho sporso un po' il gomito e ho toccato la contrada Che contrada è? La locca giustamente l'avversaria però io mica ho fatto stavo cascando e mi hanno dato una munizione anche lì perché stavo cascando e mi sono affacciato un po' troppo Hai avuto sfortuna di trovare locca accanto? Ha avuto la sfortuna che stava passando lì nel momento lì se non passava lì o passava un'altra forse non mi diceva neanche niente È coccato un cartellino rosso Un cartellino rosso e stiamo parcheggiati a casa A casa Senti hai fatto tutto il protocollo un tuo giudizio sul gruppo dei cavalli per la prossima tratta Dunque i cavalli ormai dai tutti li portiamo in ordine tutti cerchiamo di portarle al meglio c'è quello un po' che si adatta di più e quello che si adatta di meno però giustamente tutti si lavora bene e tutti cerchiamo di portarli i cavalli perfetti e in ordine per fare questo giochino Guarda io l'ho detto anche a altri tuoi colleghi visitando tutte le scuderie dove ci sono cavalli che poi saranno presenti alla tratta devo dire un parco cavalli splendido siete veramente bravi coscienziosi cavalli belli di grande qualità e grande addestramento il che significa i capitali dovrebbero scegliere il meglio no? Regola i pali giustamente i pali belli diciamo vengono fatti cavalli da corsa esatto poi se prendi cavalli poi ci sono cavalli da corsa cavalli medi e cavalli ancora più bassi del medio se prendi quelli più bassi poi il palio non diventa più palio diventa un po' più diventa un casino non è palio un casino diventa un casino però si sente dire due cavalli da corsa otto da passeggio te cosa ma dai sai le voci sono quelle un giorno si può sentire di quello un giorno si può sentire che non ci sono cavalli da corsa un giorno si può sentire poi il momento del giorno della tratta vediamo e valuteranno i capitani senti l'inverno come è stato come i rapporti con le contrate io giustamente non mi posso lamentare d'inverno capitani le contrate le ho viste giustamente le ho viste e sono contento chiaro l'anno scorso le cose non sono andate benissimo hai venuto anche il reddito di un infortunio abbastanza pesante l'anno scorso mi era successo l'infortunio brutto poi mi ero rimesso poi ho fatto il pallone nel montone giustamente l'annata me l'ha spezzata ho fatto un pallone e basta però per come ero diciamo concio e tutto ho fatto anche troppo anche troppo sono contento e soddisfatto di quello che ho fatto allora hai esordito nel 2011 e l'ultima carriera nel 2022 tartuca pantera lupa civetta torre civetta montone ivano bondina prima sorighitto tabacco tonina porto alba e solo tu due hai montato dei cavalli discreti no? si ho montato dei cavalli discreti cavalli di media di media cavalli di punta giustamente non senza giustamente non li ho montati senti ma quel concetto che eri un attimino il birbante montato a cavallo per fare qualche service esiste sempre o hai cambiato tattica? ma io non ho cambiato niente giustamente anche a me piace vincere fare un palli più tranquilli a pensare a me stesso e di cui anche alla contrata che mi dà fiducia e tutto però giustamente io sono un fantino e il fantino io sono un fantino e posso fare tutto posso andare a vincere posso andare anche un po' a disturbare come dici te un po' cattivo e se c'è da fare quello si fa anche quello non mi tiro indietro non butto via niente e questo è il mio lavoro senti e fuori Siena le cose come sono andate? fuori Siena quest'anno non mi posso lamentare perché ho montato dappertutto senza portare la vittoria sfortuna però ho sempre dato il mio meglio sono sempre andato nelle condizioni per far bene e niente giustamente ci vuole anche fortuna nelle cose abbiamo un parco fantini alto medio basso questo lo dovete dire voi non lo devo dire sono un fantino e devo essere giudicato da voi se è squalificato sempre ho detto fantino le prove di notte le fai? si si le prove di notte le faccio porti schietta e tale quale si c'è tale quale schietta poi c'è dei cavalli nuovi poi c'è van kock c'è zeniata ci sono i cavalli però giustamente c'è anche federico lui deve io qualche giretto forse l'ho fatto come sappiamo un po' tutti di dentro mi posso anche un po' risparmiare è giusto che faccia un po' di esperienza a federico dopo lo conosceremo si si fa esperienza a lui e via senti c'è questo concetto ormai abbastanza consolidato dei club di Fantini si e allora no e allora niente te che club sei? ma sai io sono un club a parte io il mio club me lo creo da me e niente giustamente c'è dei rapporti con con altri club però io fò per per Giosuè e poi e niente poi chi c'è da fa si fa ci fa vedere questi tatuaggi un attimo lì sul braccio destro che cos'è? quale questo? si per forza e per amore per forza e per amore ci dovete rispettare e qui che cosa c'hai? dove? c'è una corona? ah si si va bene questa è la data della nascita di mio figlio alla nascita della figlia la figlia piace a Cavalli? per fortuna ora no bene perfetto perché se no cazzo si continua diventa senti ti sei sistemato bene prima di aver aumentato anche i box no? no no sono sempre questi no 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 bisogna se aumenti bisogna lavorare di più abbastanza si lavora lavoriamo il giusto e bene quanti anni è che sei a Siena? io ci sono dal 2003 2023 no ma che il 2023 scusa va cancellata il 2003 20 anni 20 anni 20 anni come ti sei trovato? ma se sono ancora qua vuol dire sto bene se no me ne ho ritornato in Sardegno però ecco quello che io mi piace di te è questa forma molto ironica che hai nel parlare di te stesso della vita delle cose che fai che è piacevolissima cioè sei uno che si non si reprime va avanti supera le difficoltà che nella vita ci sono per tutti e sei sempre a tiro giusto? sì vedrai qui se no se non se non ti dai da fare affondi capito? e allora devi essere sempre al pezzo pure se come anche l'anno scorso mi è sceso il mondo addosso e tutto però ho detto se mi butto giù e tutto non risolvo niente no allora mi sono messo di picco e sono andato avanti ho insistito e sono arrivato quasi al dunque senti domenica a Monteria Castiglione Fiorentino lì montata in coppia giusto? sì sì montiamo in coppia con Dino Pesso sì monto un D che chance avete? quali sono un po' le strategie? è che un palo particolare strano? le chance le chance non te lo so dire neanche io noi ci va per far bene cerchiamo di portare il risultato a casa e poi i pali tanto ci hanno tutti c'è chi vince e chi perde chi vince ha fatto bene chi perde è un coglione è un coglione e allora noi cerchiamo di non essere coglioni e di vincere agosto sarai sicuramente a cavallo giusto? se Dio vuole sì i rapporti ce li ho ci sono già asti? ma asti non sono tanto per la quale tanto non mi ci sono sempre andato poco niente perché è lontano? non è perché è lontano perché non lo so è un palio così non mi hanno mai considerato diciamo non ci vado ho capito però quello che vedo ci sono proprietari che hanno fiducia di te c'è molti cavalli in allenamento no? sì ci li ho sono contento vado avanti fai il mio e via e via allora ora vediamo la carriera del 17 agosto dell'anno scorso 2022 Valdimontone solo tu due ecco cosa ricordi di questo palio? dai che ricordo niente ricordo che pensavo di far meglio invece siamo arrivati terzi come ho detto prima se arrivi o secondo o terzo non ci fai niente nell'argento nel bronzo nell'argento nel bronzo il più contato che arriva primo cavallo è arrivato primo è superiore giustamente sta parlando di violenta e basta allora vediamo questo palio e poi ci troviamo per un drink insieme a Giosuè insieme a Federico e poi con Mario Foggio Monzi e il nostro grande Federici Federico Federici ce l'abbiamo anche noi Federico per cui Montone solo tu e due il 17 agosto Mossa valida parte in testa Leocorno La Selva Montone Giraffa Nicchio Onda andiamo al primo San Martino con Leocorno in prima posizione seconda posizione La Selva segue Montone Giraffa Onda Nicchio Civetta Tartuca Chiocciola eccoci al Cassato con sempre Leocorno che sta è caduta la Giraffa è caduta l'onda sono cadute tre conto nella Civetta andiamo al secondo San Martino con Leocorno in prima posizione che ha già alcuni colonnini di vantaggio segue la Selva la Selva che sta facendo un grande palio Leocorno Selva Montone quattro scossi quattro cavalli scossi e andiamo così al secondo Cassato hanno sbatacchiato nuovamente nei palchi e Leocorno che sta conducendo con un grande distacco vediamo Leocorno alla ultima curva di San Martino inseguito dalla Selva dal Montone e gli scossi ed ecco Leocorno che arriva al Cassato e conclude vittorioso nuovamente il quadro di Siena Giovanni azzeni detto Tirria per i coloni De Leocorno di San Martino di San Martino di San Martino di San Martino Siamo giunti alla parte finale del nostro incontro con Giosuè Carboni detto Carburo ci troviamo al tavolo abbiamo un drink da consumare tutti insieme e io passo la linea il microfono a Pietro Federici con la frase vai e ritorna vincitore a te ti tocca agosto però ora non vinci niente questo lo sai che non vinci niente per cui silenzio fino a certo punto perché ora deve parlare comunque sia allora Giosuè hai parlato con Franco abbiamo però anche presentato un ragazzo un tuo ragazzo ovvero Federico Fabri allora innanzitutto spiegami un attimino il rapporto che c'è tra di voi e soprattutto com'è nato se sei stato te a pescarlo ad allevarlo o se è stato lui a venire da te a proporsi dunque con Federico nasce da lontano perché l'ho conosciuto e data non me la ricordo però l'ho conosciuto quando c'era quando lavoravo dal Milani ah era 2014 e niente l'ho conosciuto lì veniva lì era un ragazzino lui neanche montava a cavallo non faceva veniva lì a darci una mano spazzolava i cavalli c'era questa passione mi sa lui faceva puni gay e niente e poi da lì da cosa è nata cosa anche da Massimo ho fatto montare a cavallo così e tutto poi io da Massimo sono venuto via e lui dopo un anno che è venuto via mi sa è venuto qui però è venuto lui mi ha cercato lui aveva un buon rapporto sia con lui che tutta la famiglia è cresciuto bene è cresciuto bene poi anche più di te sì è cresciuto anche troppo è forse è cresciuto anche troppo per fare il fantino dici troppo è un po' secco no no però è longilino tra l'altro come molti giovani iniziano dalla scuderia di Massimo Milani ora ha creato un bel gruppo un bel gruppo di ragazzi Federico ti passo il microfono e raccontami un attimino la tua storia raccontami i tuoi sogni e intanto anche ciò che hai fatto nel tuo percorso ti passo il microfono vai allora sì come ha detto Giosuè no io ho iniziato dal Milani nel 2014 e sì all'inizio era più sì una passione non non era diciamo l'obiettivo della mia vita fare questo però andando avanti nel mondo della cavalli a corsa e vedendo il mondo del palio diciamo con altri occhi e mi sono reso conto che questa cosa volevo fare volevo fare questo lavoro da grande volevo fare il fantino e niente ho seguito Giosuè quando lui se ne è venuto di qua e posso dire che mi ha insegnato praticamente tutto cioè sin da quando si era da Massimo diciamo era mi passava appena a casa mi portava a scuderia e poi mi riportava a casa lui ma andavi anche a scuola in frattempo sì la mattina andava a scuola d'estate a casa no perché fa 100 metri io facevo 100 metri a piedi perché lui diceva passa appena l'incrocio veniva in moto io ho una paura dietro quella moto questo matto perché le curve super bel caro e poi te lo immagini va andava piano e niente poi mi riportava a casa e sono passati gli anni e siamo sempre insieme insomma alla fine grazie grazie Federico per questa breve presentazione allora Giosuè lui andava a scuola sei con la scuola come hai rimesso? malissimo malissimo lui non andava mai giù in Sardegna eri sì è certo giustamente andavo a scuola ma non era proprio la mia arte diciamo perché io ho provato anche a andare dopo le mete ho provato anche andare a scuola però non mi piaceva mi sono andato subito al lavoro subito al lavoro va bene giustamente in altre faccende ha faccendato ecco Federico l'abbiamo già visto in piazza ormai l'anno scorso sta maturando sta maturando quando pensi che potrà prendere parte alla prova? ma la prova la prova non te lo so dire giustamente l'anno scorso è andato benissimo ora devo essere un po' sincero devi essere sincero senza un po' sincero se continuava il filo dell'anno scorso forse la prova c'era anche quest'anno però quest'anno un po' si è perso però giustamente come è successo a tutti anche a noi no? come è successo anche a noi a noi che siamo già un po' così e si sta riprendendo poi si viene la prova a ben vento Federico classe 2000 è comunque sottolineiamo lo che è innamorato lui? ma lui si è innamorato e poi è un po' vedrai come tutti ragazzi giustamente ragazzi a questa età poi è giusto è giusto è giusto io ti sostengo ti sostengo Federico su questo su questo ti sostengo allora senti invece raccontaci la tua gioventù con i cavalli per poi raccontarci di quando sei arrivato la prima volta in piazza le emozioni che provavi ma io la prima volta non mi ricordo neanche il cavallo montato Ivanov ah ma in piazza in piazza io parlo di Sena si 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 la prima volta aveva montato Ivanov se c'avevo l'esperienza di ora giustamente il primo paleo un po' lo paghi tutto pure che ho usato un po' da un po' grande e tutto sempre un'emozione grande il paleo di Siena e tutto un po' ho pagato e niente poi questa questo paleo così un po' l'ho pagato per cinque anni che poi sono rientrato dopo dopo il paleo perché ero cascato dal primo San Martino ma quanti i fantini sono cascati il primo San Martino tantissimi però a me mi hanno dato delle colpe stavano in cielo e in terra e mi hanno distrutto allora mi è toccata ripartire da zero e poi piano piano ce l'ho fatta e poi ritornò nel 2016 con la fantesa un po' impegnativo è andato bene ce l'hai fatto avevi fatto la tua missione avevi fatto la tua missione compiuta e ci siamo ancora qui ecco Federico ora ti passo il microfono anche a te perché te sei un ragazzo senese quindi la piazza la conosce benissimo ma la prima volta che hai percorso la piazza con un cavallo come è stato? è magico veramente avevo 18 anni ho fatto nel 2018 il 27 giugno è la prima volta che facevano le prove di notte divise in due giorni con i quattro anni un giorno e gli altri invece il giorno dopo e mi ricordo questa ansia un'ansia una voglia di far di far però madonna mi sentivo peso peso quando montava a cavallo c'era anche lui si montava nella stessa batteria due cavalli di quattro anni lui montava a vancucca fra l'altro e sicché siamo andati insieme mi ha fatto dai vieni dietro fai quello che faccio io no? io mi ricordo nel corpetto il cuore batteva di sentirlo quando fai quel passo fuori dall'entrone ti si spalanca il mondo davanti per un senese ma io penso un po' per tutti è magico davvero poi vabbè siamo andati è andato tutto bene e stavo bellissimo quello è la prima tratta lavorare con un sardo è difficile? oddio facile facile non è però dai alla fine quando uno ci si conosce ognuno ha i suoi difetti ognuno ha i suoi fregi i sardi hanno i loro difetti i senesi è uguale però dai alla fine è un divertimento spesso e volentieri è bello è bello è bello veramente mi sembrate due ragazzoni Giosuè lui è proprio un ragazzo ma anche se comunque ti mantiene giovane possiamo dire sì dai diciamo che ora non è che sei vecchio però insomma no no però mi tiene giovane è bello è bello Franco per favore sempre la suoneria allora Mario sì dimmi ora fra poco ti faccio firmare la maglia ma prima io devo far pescare a Giosuè la contrada che non monterà perché lui d'altronde a luglio non ci sarà ma in quale contrada avrebbe potuto montare Giosuè Carbonetto Carburo bene peschiamo subito il barbero ti do senza guardare senza guardare l'onda l'onda perché ridi così allora Giosuè Carbonetto carburo ha pescato la contrada dell'onda capitano Alessandro Toscano ha mai avuto rapporti con capitano Toscano in passato e raccontaci se un giorno potrai montare anche nella contrada dell'onda e che vi devo raccontare il Toscano c'è avuto poco rapporti chiaramente nella torre giustamente anzi anche peggio sono onesto che devo dire è niente però non c'è niente contro l'onda non c'è niente neanche niente contro il Toscano e basta poi se io non faccio il Fantino poi chi l'ha mai detto poi posso anche montare il futuro non si sa mai cosa ci può riservare però logicamente sappiamo il passato di Giosè con la contrada della torre ce lo ricordiamo tutti e quindi questa sarà comunque sia la contrada che avrebbe preso Giosuè Carboni a luglio senti l'otto di cavalli lo vogliamo alto lo vogliamo basso ma faranno i capitani faranno i capitani io non ci sono decideranno loro beh però una tua opinione o chi deve decidere qualora tu corressi ma meglio alto no potete giocare tutti chiaramente chiaramente Franco allora come sempre chiedo la tua analisi su Giosuè Carboni detto Carburo come l'hai visto crescere in questo in questo periodo e poi voglio anche l'analisi di Federico Fabri su Giosuè Carboni sì 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 allora Giosuè è un ragazzo versatile che significa fa tutti i versi nel senso può essere un infantino da corsa da vittorio può essere un infantino di attenzione può essere un infantino di disturbo cioè è è un'enciclopedia vivente di tutto quello che può essere fatto a cavallo il che significa dipende dalla contada che lo monta gli affida il proprio cavallo e i propri colori e poi gli danno gli ordini e lui esegue su questo devo dire è sempre stato precisissimo un soldato un soldato lo vedremo ora agosto però credo Giosuè sia maturato anche il momento di alzannerbo per dire ha vinto carburo carbonella Giosuè e Carboni alla grande alla grande perfetto molto bene molto bene Federico in questi anni ti invece come hai visto maturato Giosuè l'uomo che stai seguendo ormai dal 2018 avevi detto no? a 7 2018 poi vabbè prima anche dalla scuderia di Massimo Milani comunque il rapporto viene da lontano ecco come l'hai visto maturare e poi dopo andiamo alla firma della maglia con Giosuè hai pensato alla frase? no benissimo allora allora io conoscivo Giosuè quando aveva già corso il primo palio quindi nel 2014 l'ho conosciuto prima di mettersi da solo scuderia e posso dire di essere arrivato subito dopo aveva ricorso il secondo perché è arrivato nel 2017 e aveva già ricorso il palio con Dina e credo sì ha detto bene Franco Fantino Versatile però io dico anche secondo me un incompreso no? alla fine che all'inizio forse non ha avuto ciò che si meritava che con ogni probabilità sta avendo adesso ha avuto la possibilità nel montone di fare un palio un po' più anche se c'era la rivale in piazza però e niente secondo me è un Fantino che aspetta solo l'occasione giusta perché le è mancata l'occasione no? l'abilità di sfruttarla quindi si merita un'occasione eh secondo me sì allora abbiamo preso abbiamo fatto alzare Mario Di Poggibonzi insieme a Giosuè Giosuè pensati Franco quindi adesso te dovrai scrivere dietro alla schiena del nostro Mario una frase su di te con lo stile di Franco Masoni ci hai già pensato alla frase? sì dietro alla gruppa dietro alla gruppa ci ho pensato pure che non mi garba tanto però però lo stile di Franco lo stile di Franco quindi stai dicendo che non ti piace lo stile di Franco sì mi piace però poi ci dice qualche cosa non ti va bene vai vai Giosuè vai Giosuè dunque dove scrivo? scrivo scrivi da qua scrivo qui 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 vediamo che ci scrive Giosuè Carboni detto carburo Giosuè Carboni detto carburo ha scritto ha vinto carbonella ha vinto carbonella ebbè c'è proprio Franco Masoni a te il pennarello mi chiama sempre carbonella giustamente giustamente mi ha detto ha vinto carburo lui dice ha vinto carbonella certo chiaramente allora io prima di tutto faccio un augurio anche a Federico Fabri che al più presto possa venire a firmare una maglia con Mario di Poggibonzi perché sarà un buon segno vuol dire che sei in piazza quindi ti auguro di farlo veramente al più presto e poi naturalmente adesso passo il microfono a Franco che dovrà gridare che ha vinto carbonella grazie a Giosuè prego Franco siamo a saluti siamo a saluti però sono contento che il soprannome che io l'ho messo a lui quando era da Massimo Milani carbonella ora l'abbiamo identificata l'abbiamo scritto anche nella groppa di Mario ce lo fa vedere è sempre rosso sempre rosso perfetto al mare è un casino allora niente come sempre grazie a Giosuè che disponibile carinissimo ad ospitarci grazie anche a Federico il suo aiutante e valido scudiero dalla scuderia di Giosuè Carboni detto carbonella è tutto a voi studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti